e what hi a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questo nuovissimo vlog ebbene ragazzi questo oggi è sabato come ben sappiamo tutti quanti anche se ormai a causa della quarantena vi dirò ragazzi che io ho perso un pochettino effettivamente il senso del tempo quindi ormai distinguere i giorni comincia a diventare abbastanza difficile diciamoci la verità essendo sabato ho preferito insomma portarvi un vlog per chiacchierare così un pochettino in tranquillità perché appunto volevo prima di tutto parlarvi di come sto vivendo io questa quarantena e poi comunque aggiornarvi su quelle che magari saranno le prossime novità qua sul canale allora parlando un attimo ragazzi di quarantena domani saranno esattamente tre settimane dall'ultima volta che io sono uscita di casa perché tre settimane fa era l'otto marzo e siamo andati ragazzi a mangiare una pizza io e rodrigo assieme a mia sorella mio cognato la sera perché era domenica quindi la sera non lavoravamo e quindi è stata quella l'ultima volta che io sono uscita di casa vi dirò che per adesso comunque la mia sanità mentale sta ancora reggendo quindi non è che sto vivendo in modo drammatico questa chiusura forzata dentro quattro mura per fortuna dico per fortuna perché di sicuro ci sono diverse persone che magari diventano insofferenti purtroppo magari per motivi caratteriali per motivi comunque di abitudini diventano insofferenti quindi a questa chiusura forzata in casa e quindi io mi ritengo fortunata perché per adesso almeno non sto subendo tanto questa quarantena a livello mentale dico ovviamente perché a livello fisico ci può stare perché magari ragazzi purtroppo stando sempre chiusi dentro casa quindi la vita diventa particolarmente sedentaria e quindi anche il fisico può subire un cambiamento a causa di questa quarantena però magari ci si arrangia diciamo infatti io e rodrigo per esempio stiamo facendo un pochettino di esercizi ogni giorno sapete tipo quegli esercizi che si trovano su youtube proprio onde evitare comunque di diventare veramente troppo sedentari però non credo che sia il fisico magari il problema principale ragazzi legato a questa quarantena perché ovviamente la prima cosa che viene intaccata è sicuramente la sanità mentale perché per quanto appunto ragazzi questo sacrificio che ci stanno chiedendo di fare non sia comunque così grande diciamoci la verità perché l'unica cosa che ci chiedono di fare è comunque di stare in casa e quindi non è che ci stanno chiedendo mo ci vuole di andare in guerra a morire ragazzi quindi le dinamiche sono totalmente diverse da quelle di grandi emergenze che sono viste negli anni passati ovviamente e quindi l'unica cosa che ci chiedono è comunque di stare in casa e per questo che non è che ci stanno chiedendo ragazzi chissà di fare che cosa di così terribile però è pur vero che ci stanno poi ognuno è fatto a modo suo e quindi ci stanno delle persone che purtroppo diventano insofferenti stare costantemente chiusi in casa per quanto magari comunque la casa sia accogliente comunque l'ambiente sia accogliente ci sia la famiglia o ci sia magari qualcuno che ti fa compagnia ci stanno delle persone purtroppo diventano insofferenti e quindi la prima cosa che viene intaccata è sicuramente la sanità mentale vi ripeto che io mi ritengo fortunata perché almeno per ora la mia sanità mentale sta ancora reggendo anche perché per fortuna ragazzi io come Rodrigo comunque ho degli interessi che principalmente comunque ti fanno stare in casa quindi ti facevano magari stare in casa anche quando comunque potevi uscire quindi per esempio vedo tanti meme in giro sui social che comunque ironizzano su questa cosa nel senso che per esempio gamer come noi ragazzi non vivono questa situazione in maniera così drammatica per esempio perché adesso abbiamo molto più tempo a disposizione per per esempio poter giocare ai videogames e quindi comunque un'attività di intrattenimento mentale soprattutto che comunque ti porta a stare seduto sul divano quindi a stare dentro casa e quindi persone come noi che hanno attività di intrattenimento simili quindi come per esempio i videogiochi come per esempio le serie tv come per esempio la lettura il disegno oppure che ne so ragazzi anche semplicemente lavorare al pc quindi sono tutte attività che per fortuna ci permettono di intrattenerci stando dentro casa e quindi magari grazie a questo anche che viviamo in maniera forse un pochettino meno traumatica questa situazione di quarantena e purtroppo però appunto ci sono molte persone che magari hanno altri tipi di interessi che magari probabilmente li portavano a stare fuori di casa e quindi queste persone si ritrovano a non avere modo comunque di intrattenersi o comunque ad annoiarsi a morte a dover trovare nuovi modi di intrattenersi che magari non trovano interessanti si ritrovano a dover combattere contro questa voglia ragazzi di tornare a fare le cose che facevano prima quindi per molti di noi non è semplice per molti di noi la cosa si sta rivelando abbastanza semplice anche se comunque ovviamente ragazzi e le abitudini che avevamo anche semplicemente per esempio che ne so di andare a fare la spesa in maniera totalmente spensierata purtroppo sono state totalmente sbalzate via e quindi la sanità mentale credo in qualche modo sempre viene un minimo intaccata ma chi più chi meno quindi io personalmente come vi dicevo almeno per ora sto vivendo in maniera non troppo traumatica questa quarantena certo mi pesa per esempio moltissimo il fatto di non poter andare a trovare mia mamma la mia famiglia che comunque adesso ovviamente sono molto vicine a me è comunque impossibile andarci perché sono in un altro comune quindi tra l'altro non è il nostro stesso comune questa cosa ovviamente fa sì che io non possa andare a trovarli infatti comunque mia mamma non la vedo per esempio dal 6 marzo sì perché era il venerdì prima di quella domenica quindi dal 6 marzo per esempio che io non vado a trovare la mia famiglia quindi questa cosa sì questa cosa sì mi pesa sinceramente poi tra l'altro c'è la famiglia di rodrigo ragazzi che sta ancora in spagna e quindi comunque il pensiero che pure loro stiano vivendo questa stessa cosa fa sì che un pochettino di pensiero ecco ci sia e questa forse è la cosa che più mi intacca psicologicamente parlando gli affetti ecco gli affetti sicuramente fanno sì che io abbia un po' di pensiero che perché ovviamente ragazzi tutti noi magari abbiamo dei genitori che comunque hanno più anni di noi e quindi comunque il pensiero sempre per esempio quando mia mamma mi dice devo andare in farmacia devo andare a fare la spesa c'è sempre c'è sempre il pensiero che comunque questa persona che ovviamente è un tuo affetto carissimo sta uscendo comunque ha più anni di te e quindi magari è più a rischio di te ovviamente con la questione del virus e tutto quindi da questo punto di vista sì il pensiero ce l'ho il pensiero ce l'ho ovviamente non significa ragazzi che io stia vivendo questa quarantena in maniera totalmente spensierata non è così dico che la sto vivendo abbastanza bene dal punto di vista che dell'intrattenimento ecco quindi ho comunque cose da fare che mi permettono magari a volte di non pensare perché se mi mettessi a pensare ragazzi probabilmente cadrei in depressione quindi onde evitare questo preferisco a volte non pensare anche se comunque la situazione rimane sempre quella che è quindi comunque le persone care cui pensi sempre il lavoro ragazzi noi non stiamo ovviamente lavorando lavoriamo in un ristorante quindi il lavoro che si è fermato quindi l'attesa della cassa integrazione sperando che arrivi il prima possibile perché il lato economico ragazzi è una cosa a cui purtroppo bisogna pensare anche perché noi tra l'altro siamo in affitto quindi bisognerà un attimo vedere ci sono tante cose tante cose a cui magari comunque bisogna pensare perché sono la realtà di tutti i giorni a cui si cerca di non pensare troppo e magari intrattenendosi in altri modi quindi noi per fortuna modi per intrattenerci ne abbiamo altre persone non ce le hanno e quindi è dura in ogni caso è dura tanti pensieri che comunque riempiono la testa e che si cerca di ricacciare un po indietro proprio per evitare di impazzire ecco niente diciamo che che la mia testa in questo periodo di quarantena sta così so voi ragazzi fatemi sapere comunque voi come state vivendo questa quarantena ovviamente chissà quando finirà comunque quando finirà adesso il termine era il 3 aprile che ovviamente ragazzi sappiamo tutti benissimo che sarà assolutamente prolungato secondo me prima della fine di aprile comunque metà maggio io non credo che questa cosa si sblocchi però insomma incrociamo le dita speriamo che ne so che la situazione migliori comunque ovviamente e mi fate sapere voi comunque come state vivendo questa situazione poi per quanto riguarda il resto ragazzi allora io c'ho anche un altro modo di intrattenermi che sarebbe quello di youtube per fortuna che ci sta ragazzi che mi permette comunque sempre di pensare al fatto magari devo fare un video devo fare quest'altro devo trovare una serie da fare eccetera quindi anche youtube sicuramente mi sta aiutando spero che stia aiutando anche voi e io ragazzi la prima cosa che penso vi giuro è il fatto di dover intrattenere voi quindi il mio pensiero è ma dai se oggi devo fare un video voglio fare un video per dargli magari sapete quel quarto d'oro che ne so quella mezz'ora se si tratta di un gameplay per staccare un po' la testa quindi anche voi siete una mia priorità questo è poco ma sicuro quindi io vi ringrazio per esserci ragazzi perché probabilmente senza di voi e youtube non avrebbe senso e quindi avrei una cosa in meno a cui pensare quindi grazie sempre per esserci ragazzi voglio un mondo di bene la serie su doki doki ragazzi è finita quindi adesso vi voglio aggiornare su appunto le situazioni canale perché ovviamente la serie su doki doki è finalmente finita finalmente da un lato no da un lato si perché si è protratta veramente a lungo la questione dei codici ragazzi su doki doki eccetera mi avete detto comunque di lasciar perdere perché è molto difficile comunque sono molto difficili da decifrare bisogna sapere anche di programmazione eccetera cosa che ovviamente non so e quindi la serie su doki doki possiamo ritenerla ufficialmente finita e quindi ovviamente mi sono dovuta scervellare ragazzi per trovare qualche altro gioco da fare allora ovviamente ragazzi diversi di voi mi hanno sempre consigliato un gioco che si chiama what remains of edit finch e io lo avevo comprato su ps4 veramente poco tempo fa tra l'altro perché era in sconto tipo a 7 euro quindi l'avevo acquistato proprio perché voi me l'avate sempre consigliato però vi dirò la sincera verità ragazzi che attualmente voglio evitare di fare giochi su console su play sulla play perché noi la play comunque ce l'abbiamo attaccata alla tv del salotto e quindi per registrare i video sulla play devo portarla qua nello studio e quindi attualmente siccome ovviamente ragazzi la play in salotto lo usiamo tutti i santi giorni e quindi per registrarla dove stare a portarla tutti i santi giorni qua voglio evitare questa cosa non tanto per pigrizia più che altro ragazzi proprio pure per evitare magari problemi alla play nel senso attacca stacca attacca stacca porta di qua porta di là porta di qua porta di là vorrei evitare insomma questo casino anche perché ogni volta ragazzi mo ci vuole pure un minimo un po di pigrizia ci sta nel senso starla attaccare a staccare attaccare a staccare ogni volta porta di qua porta di là è vero una cosa da niente però farla tutti i santi giorni sinceramente renderebbe la cosa un pochettino spinosa quindi per questo che non vi porto vuote un immenso vedi finisce perché comunque l'ho già comprato sulla play e attualmente ragazzi fare tutto stan baratan sinceramente è veramente antipatica come cosa quindi voglio portare giochi che comunque posso giocare su pc ora sapete benissimo ragazzi che il mio pc è quello che è purtroppo se me lo state per chiedere no ragazzi non posso portare orient will of the wisps vi prego non me lo nominate più perché ogni volta è un colpo al cuore sapere di non poterlo giocare perché il mio pc probabilmente non ce la farebbe ragazzi quindi costa 30 euro io vorrei evitare ovviamente di comprarlo per poi vedere che non posso giocarlo e quindi non posso portare ori per quanto la cosa mi faccia stramale al cuore ragazzi veramente e quindi devo trovare altri giochi da fare su pc che il mio pc ovviamente riesca a reggere io sono riuscita ragazzi grazie al mio amico christian che come sempre veramente ringrazio di cuore perché mi aiuta tantissimo in queste cose sono riuscita a installare l'emulatore sul mio computer della ps1 per cui magari stavo pensando di potervi portare qualche retro game quindi qualche gioco vecchio se questa cosa ragazzi vi potrebbe vi potrebbe piacere ovviamente me lo fate sapere vi dirò varie cose a cui ho pensato per cui io vi prego comunque di rispondermi a tutte le cose di cui vi sto per parlare perché così un pochettino mi regolo per cui una delle prime opzioni sarebbe comunque portare pure un po di retro gaming quindi portarvi magari uno alla volta ovviamente un gioco retro per ps1 quindi se questa cosa vi potrebbe piacere me lo fate sapere dopodiché stavo cercando appunto altri giochi da poter portare rodrigo che ringrazio veramente tantissimo perché lui che l'ha trovato ha trovato ragazzi un gioco che sembra fatto apposta per il mio canale diciamocela così che si chiama gris e che ovviamente porterò come serie questo già ve lo dico perché l'ho comprato l'ho installato funziona ed è secondo me ragazzi una meraviglia di gioco è un indie game che però secondo me vale la pena giocare vi avverto che non è in italiano non c'è in italiano purtroppo ma mi sembra di aver capito che nel gioco non ci siano dialoghi non ci sono cose insomma da dover tradurre quindi per questo lo porto tranquillamente sul canale in ogni caso c'è in spagnolo preferisco lo spagnolo perché magari un po più semplice da capire in caso ci dovessero essere delle cose da tradurre perché il gioco è totalmente ermetico ragazzi sarà una poesia una poesia di serie per cui io vi invito caldamente a seguirla perché sarà spettacolare ragazzi veramente e io non vedo l'ora di giocarlo perché sono veramente molto impaziente quindi questo questa sarà la prossima serie che intanto già è sicuro che comincerò ragazzi e dopo di chiede un po di che che altro vi volevo dire volevo comunque ragazzi ricordare che appunto io starei portando anche dark souls in live ovviamente magari non a tutti interessa questo tipo di gioco però ve lo dico perché può essere divertente quindi non porto le live a una cadenza fissa quindi magari può essere che un giorno decido di mettermi in live e vi avviso magari sui social quindi non ci sono giorni specifici per le live e vi volevo soltanto appunto ricordare che sto portando dark souls in live in caso vi dovesse interessare insomma divertirvi un po insieme a me in live dopodiché ragazzi avrei pensato pure ad un altro paio di cose da poter portare sul canale in caso come serie magari comunque più avanti quando avremo finito appunto gris perché io avevo appunto preso gratuitamente diverso tempo fa ragazzi da epic games i giochi di batman quindi sarebbe a dire batman la serie di batman arkham quindi arkham knight arkham city arkham asylum e tra l'altro anche i giochi di lego batman per cui i giochi di batman dovrei vedere se comunque sul pc mi funzionano se il pc ce la fa penso che dovrebbe farcela perché non sono giochi molto recenti in ogni caso dovrei fare una prova se noi giochi di lego batman ragazzi che sono sicuramente molto simpatici molto leggeri magari mi fate sapere se appunto potrebbe piacervi vederli portati come serie io ragazzi vado proponendo perché vi dirò la verità ragazzi io volevo portare un gioco che si chiama the cat lady che mi è stato consigliato insomma sulla scia di doki doki perché un gioco estremamente cupo estremamente tenebroso parla comunque della storia di questa protagonista che è una persona purtroppo depressa e quindi ha elementi estremamente disturbanti al suo interno io volevo portare questa ragazzi come serie però vi dirò la verità che visto il periodo che stiamo attraversando quindi un periodo che comunque non è rose e fiori è un periodo in cui appunto magari alcuni non sono molto felici quindi non hanno l'umore molto alto volevo evitare di portare appunto giochi ragazzi di questo tipo nel senso giochi che comunque potrebbero minare ulteriormente l'umore vostro e mio quindi volevo portare giochi un pochettino più spensierati o comunque giochi di avventura più che horror e magari delle atmosfere cupe insomma so che abbiate capito quello che intendo dire ragazzi per cui anche se avete da consigliarmi giochi su cui portare insomma su cui fare delle serie ovviamente ragazzi è tutto ben accetto qua sotto in commento per cui giochi di questo tipo magari o comunque di avventura o comunque giochi un pochettino più leggeri un pochettino più simpatici per cui vi prego ragazzi di farmi sapere so che vi ho buttato tantissime informazioni però vi prego di farmi sapere appunto in commento cosa potrebbe piacervi cosa no quali delle idee che vi ho proposto vi piace insomma e se avete anche altri giochi da consigliarmi ragazzi per farci delle serie più avanti per cui io penso di avervi rintronato pure abbastanza ragazzi con questo video non pensavo che sarebbe durato così tanto per cui io vi ringrazio come sempre ragazzi per esserci e per dare un senso ecco diciamo così anche a questa quarantena attraverso youtube io vi mando un bacione quindi questo video termina qui ciao a tutti ragazzi voglio bene